Bentornati dallo Zio Croma, ragazzi. Avendo quasi platinato Elden Ring, posso confermare di aver praticamente fatto tutti i boss del gioco, anche quelli segreti. Ed essendo rimasto affascinato dall'ultimo lavoro di From Software, ho deciso di stilare la classifica del boss fight che ho amato di più con annesse e menzioni d'onore. Mi raccomando, chiaramente, e credo si capisca anche già dal titolo, il video è spoiler, quindi è consigliabile la visione solo dopo aver terminato il gioco almeno una volta. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di scrivere la vostra top 3, così vediamo se abbiamo gusti simili. Detto questo, direi di iniziare. Il gigante di fuoco qualcuno potrebbe non aspettarselo, eppure ho trovato la fight contro l'ultimo sopravvissuto alla guerra dei giganti molto interessante. Con il cavallo è possibile schivare quasi tutti i suoi attacchi e raggiungere una posizione di vantaggio sotto le sue gambe. Scenicamente mi è piaciuta troppo, ragazzi. Gli attacchi del gigante sono molto belli, così come il suo lato estetico, che mi ha ricordato alla lontana Gragas di League of Legends. Il comandante Nihal è stato uno dei due che mi ha fatto incazzare di più di tutti, ma devo ammettere che riguardandola ora la boss fight è stata epica. Uccise le due copie di cavalieri, uno con la doppia spada e l'altro con lo scudo, rimane questo apparente idiota con la sua arma. Troppo stiloso il suo moveset e gli attacchi elettrici che effettua con la gamba me l'hanno fatto innamorare. Godric l'innestato è il semidio che ha occupato il castello Gran Tempesta a Sepolcride. Esteticamente non mi fa impazzire, lo ammetto. Lo scontro con questo bestione però mi ha messo un tono di epicità addosso che mi fomentavo nel combatterlo. Non so se qualcuno di voi mi può capire. Comunque lo scontro con Godric per me è molto importante proprio a livello personale perché sono riuscito a capire bene le meccaniche di gioco da qui in poi. Avete completato la quest di Garank la Belva? Spero per voi di sì perché è stato un bel colpo di scena per me. Quando lo ritroviamo a fare un Masula in Frantumi, dopo una breve fight rivelerà il suo vero aspetto. È Malekith, l'alama nera. Armato dalla doppia katana, di cui una, quella di Malenia, che infligge sanguinamento, non ho avuto molta difficoltà con questo boss, anche perché sono riuscito ad evitare i suoi attacchi tutt'altro che lenti. Esteticamente è sicuramente uno dei miei boss preferiti, così come la sua armatura, che sbloccheremo dopo. Quello che c'entra però è la fight in sé, molto bella, ma se si trova così in basso è perché le successive le ho adorate. Da qui in poi infatti ve lo dico, ho avuto difficoltà a decidere. Dalla sesta posizione in poi per me si raggiungono livelli di epicità pazzeschi. Queste fight le ho vissute tutte sulla pelle, ed è qui che credo tutti voi vi sarete mai chiesti come fossero i semi dei senza denti. Rykard compare tra questi. Scusate, suonava meglio nella mia testa. Rykard e il signore della blasfemia non possono piazzarlo in questa parte della classifica. Memorabile, soprattutto quando utilizziamo la lancia. Bellissimo il potere che raccoglie per abbattere prima la serpe e poi la vera forma. Scenicamente e artisticamente è stata pazzesca questa battaglia. Mi sono divertito come un pazzo e voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. L'ho fatta giocare ad un mio amico, in condivisione, e mentre lo guardavo fightare ha fatto i miei stessi commenti. Uno spettacolo per gli occhi, veramente, e più ti diverti da matto. Lo scontro con questo boss raggiunge livelli di spessore assurdi. Al quinto posto il lord draconico Placidusax, il boss segreto di Farum Azula che droppa una delle armi che scalano in destrezza più potenti del gioco. È un drago a due teste duro da mandare giù, se lo si affronta come me con la doppia katana, soprattutto perché poi fate questa fine qui e ve lo giuro ragazzi, ve lo giuro, sono andato vicino al bestemmione più forte della mia vita. Scherzi a parte, oltre a piacermi il boss e come è stata messa in scena la fight, il moveset, ho adorato il fatto che per sconfiggerlo bisogna essere bravi a rotolare e soprattutto bisogna utilizzare le magie, cosa che come vedete anche dalle mie statistiche sono fermo al livello 15. Infatti non usando ne mezza credo che io abbia vissuto questa boss fight in modo veramente ostico. È facile capire quindi come me la sono giocata tutto il tempo, gli sono dovuto stare vicino e ho dovuto evitare il più possibile i suoi attacchi. Vi ricordate che cosa ho detto con il comandante O'Neill? Solo due boss mi hanno fatto incazzare tanto. Ecco, con Malenia sono andato vicino allo strapparmi la maglietta a morsi. Non posso comunque negare che la boss fight è stata costruita da Dio, sia la prima che la seconda fase. Mentre la combattevo ho rivisto quello che avrei voluto da un gioco del genere. Studio continuo del boss, provare a capirla, utilizzare diverse strategie e continuare con quella più efficace, migliorandomi ad ogni tentativo. L'ho abbattuta con la doppia uchigatana, non avendo altre armi che potevo equipaggiare, ed ho piazzato su una la cenere di guerra che aggiungeva danno da fuoco, mi sembra su quella della sinistra, sì, perché sull'altra, ovvero quella della mano destra, ho utilizzato il ghiaccio aggiunto con il grasso. Pazzesca comunque esteticamente, capisco perché sia stata usata come mascotte del gioco, anche se è un boss facoltativo. La lore poi che la lega ad altri personaggi di gioco è fantastica, scritta veramente da manuale. Sul gradino più basso del podio abbiamo la fight con Radagon, la metà maschile di Marika. Posso dire che non l'ho trovata così difficile questa fight finale. Giuro che ho avuto molta più difficoltà con Malenia o addirittura con il comandante O'Neill, mentre qui mi sono divertito parecchio e, soprattutto, sono stato catturato dalla messa in scena del gioco. Elden Ring raggiunge un apice artistico in quest'ultima battaglia che mi ha lasciato con il fiato sospeso, non solo per Radagon, anche per la seconda parte della boss fight con la belva dell'interregno. A parte che cavolo di cervello devono avere per partorino un abominio che ti fa dire, ma allo stesso tempo, mamma mia quanto è figo. Comunque lo scontro è un concentrato di epicità che mi porterò sempre dentro. Sicuramente una delle boss fight finali migliori dei videogiochi. Parlando di epicità, non posso non citare il mio secondo boss preferito, a cui metto al collo la medaglia d'argento. Godfrey, il primo lord ancestrale. Ex marito di Marika, divenuto un senza luce, Godfrey è questo omone che abbiamo visto spammato su un sacco di post prima che il gioco uscisse, caratterizzato dall'enorme bestia leone che si porta sulla schiena. La battaglia si divide in due fasi, comunque. In una combatteremo cercando di resistere ai suoi bestoni, nella seconda fase invece Godfrey farà uso del caro leoncino, Serosh, divenendo O'Aralux, il guerriero, pronto a battersi con noi. Questa fase, qui, anche se un pelino più difficile, l'ho adorata. Sarà che ho trovato il suo moveset molto bello, grazie anche ad un character design spaziale, ma qui mi sono proprio divertito. Evitare i suoi attacchi per poi trovare il varco giusto nella sua difesa, per dire la mia, non è mai stato così divertente. Ora ragazzi, prima di vedere la prima posizione, vi lascio con due menzioni d'onore. Vince questa classifica Radhan. Il generale impazzito che si è battuto alla pari con Malenia la pugliese ha fatto sì che quando l'ho combattuto ho avuto i brividi. Non so spiegare il perché, non so dirvi com'è mai, eppure nella corsa a cavallo per arrivare a battermi con lui, mentre evocavo i compagni come aiutanti, sono stato avvolto da quella che io definisco l'epicità in un videogioco. Impossibile non fomentarsi con quella host, poi. Vi dico che una volta raggiunto il boss, assieme ai compagni evocati, ho iniziato a schivare e a combattere con entusiasmo, non per vincere, ve lo giuro, ma per godermi ogni singolo istante di quello che è riuscito a diventare, per ogni aspetto, il mio boss preferito. Grazie per la vostra importantissima visualizzazione.